Tante volte mi è capitato più che altro di sentire delle chitarre di alcuni miei clienti che io ovviamente le ho conosciute come chitarre appena finite costruite dopo un anno che magari sono state suonate queste chitarre al mio orecchio sono completamente diverse a volte ho fatto anche quasi fatica a credere che le avessi fatte io L'eroica non è solo andare in bicicletta ma l'eroica è anche passione, emozione, vivere il territorio, amicizia, scambiare opinioni Grazie